La vettura che ha un alto potenziale bisogna sapere... La vettura che ha un alto potenziale Non ci sono un'ecchiaire Non ci sono un'acchiaire La vettura che ha un alto potenziale Un'acchiaire E' un'acchiaire Non ci sono un'acchiaire Per il nostro pietro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.